a che si ferma queste cos'un po' di un po' di recuperare ma devo recuperare no, lascia i bambini ma facciamo i protagonisti ma facciamo i protagonisti protagonisti dirittori dopo protagonisti dirittori signor Chirico dove ci buttiamo per questa sera? no 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 l'intervento inopportuno di Teodora può essere invece una chance perché prima che Chirico si esprima secondo te come finisce? così possiamo dare un aiuto sofferta vittoria di Inter sofferta vittoria di Inter quindi un gol di scatto io ho già perso super ma ecco se uno volesse giocare invece il primo marcatore i famosi protagonisti protagonisti cambiasso cambiasso giocatevi il gol di cambiasso dice Teodora e poi Guarini si io volevo sapere Palacio Guarini grazie a tutti grazie a tutti